Ciao a tutti, oggi sono qui per fare una nuova recensione di un film horror fantasy di Rossella De Venuto, Controra House of Shadows, un film italiano-irlandese, diciamo che mi aspettavo un po' una cosa di bruttino invece, il film molto decente, anche come fotografia e recitazione alcuni sono dei cani, già lo sappiamo che i nostri attori italiani non sono più quelli di una volta alcuni si salva, alcuni no, niente, la trama è questa, vediamo questa coppia che vende quadri che li dipinge, prende sua moglie, il marito deve tornare in Puglia, prende e vende, lei è una pittrice diciamo, sembrerebbe affermata perché c'era tanta gente interessata ai suoi dipinti prende, quindi lei vuole andare in Puglia, anche così vede un po', fare nuovi quadri diciamo, della cultura pugliese L'altro è italiana? Sì, sì, prende, lei è straniera, non è italiana, prende, è irlandese scusate ma la regia certe volte inrompe per ricordarmi le cose quindi vanno in questa casa, prende, che è disabitata, un po' pericolante lui lavorava soltanto a fare vedere dove lui stava da piccolo, con i suoi genitori, la sua famiglia lei decide, no, è bello, molto bello, stiamo qua, è in questa casa oh, che carino, questa cosa vecchia e diciamo, lei gli piacciono queste cose vecchie, non sa, un cazzo, si mette a giocare con i pezzini oh, cosa sono questi pezzini? sì, ma diciamo, di chi era questa casa, precisamente? prende del prete il famoso zio il famoso zio prete prende insieme, diciamo che facevi miracoli sì, prende e quindi si verrà a sapere no, ora non possiamo dire niente regia, non dica va bene, non dico niente ma se no facciamo spoiler prende, vediamo che lei inizia a vedere cose strane a sentire delle cose strane strane i movimenti dentro casa lei, chi cazzo te l'ha fatto fa, sta dentro la casa lui va a portare, prende in hotel e dice, no, no così bello, risparmiamo vabbè niente, se no il film andrebbe avanti prende niente tutti quanti si spaventano e dice, ma come? ma sei pazzo che ti metti a stare dentro sta casa che ci sono i fantasmi cioè, tutta la città sa che sta villa c'è qualcosa che non va, va prende lui invita alcuni amici in casa, no? prende, c'è questa donna incinta e diciamo, prende un battibecco con la moglie irlandese con la moglie irlandese che è la pirtice che si chiama Megan se non mi sbaglio sì, Megan praticamente dopo questo battibecco diciamo che questa donna era incinta l'indomani la donna perde il bambino non si sa prende questa qua già Megan viene presa un po' di mila dalle persone che dicono che è una strega che è stata lei prende a fare perdere il bambino alla donna ma non si sa la verità prende lei Megan ha continuamente questi visioni vede, prende una donna che canta al piano di sotto che pulisce il pavimento poi prende dice al marito eh ma che bella questa qua peccato che ha smesso di cantare invece va a rivedere niente dalla finestra e non c'è più nessuno il marito già sta iniziando a capire che cazzo c'ha che non va prende diciamo che sta iniziando diciamo a scoprire piano piano qualcosa che è successo dentro questa villa incomincia a indagare lei lei indaga e prende e piano piano le cose vengono a galla vari segreti sul passato della famiglia della casa e di questo famoso zio prete un prete un po' un po' fituso un po' buono un pochettino diciamo pochettino ma dovete vedere il film e vedere il suo prete sì esatto non siamo qua a rovinarvi il film pre niente lei comincia ad avere altre visioni molto pesanti cioè lei di che era molto tutta sistemata tutta tutta pulita truccata tutta tranquilla piano piano vedete come che andiamo andando nel film e diventa un cesso un po' devastata ma diciamo così da bella donna si trasforma in un cesso che cammina poi i vestiti che uso sono orribili veramente bruttissimi io la scelti non lo so brutti 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 sì ma dobbiamo dire ci sta un perché perché sceglie quei vestiti da dove provengono non possiamo dire questo non possiamo dire neanche i vestiti merda dove li prende se no ve lo spoileriamo quindi niente io ora vi parlo della diciamo parte diciamo spoiler quindi se non siete interessati volete vedere il film e scoprirlo da voi non vi consiglio di continuare se no se non vi interessa continuate vedete come va a fine sto film prendete veniamo a scoprire che il prete aveva diciamo non era proprio che seguiva le regole del prete ecco pulito noi eravamo scusate il motorino del cazzo dello stronzo che lo sto guidando e praticamente il prete praticamente si diciamo faceva delle cosine con questa donna delle pulizie donna diciamo una ragazzina che faceva pulizie dentro alla villa quindi lui era un diciamo un prete pedofilo un prete pedofilo sì il classico prende la mette incinta questa ragazzina lui per non fare scoprire diciamo queste sue trische le sue schifezze che faceva prende la famiglia lo sapeva di questa cosa praticamente lui per nascondere la la uccise e quindi il fantasma che diciamo vaga per la casa prende proprio questa ragazza che è stato ucciso dal prete io non voglio andare oltre ci sono altre cose da scoprire non voglio spavere tutto ecco quindi se siete ancora arrivati qua io vi consiglio andare a vedere se avete amazon prime è lì amazon prime video io ve lo consiglio di iscrivervi costa voi è interessante se vi piacciono le storie di misteri di fantasmi è molto interessante un film decennio italiano quindi io vi saluto se volete vedere andate su amazon prime ciao ciao ciao